Buongiorno a tutti, siamo qui al Green Garden con Daniel Stojano, ragazzino bulgaro di 10 anni, il papà Anton e il tecnico nazionale responsabile dell'agonistica qui al Green Garden, Alessandro Arena. Buonasera a tutti. Allora, la prima domanda, Alessandro, come sei entrato in contatto con Daniel e suo papà? Allora, è una cosa un po' particolare. Io non sono un fan dei social, però ovviamente Daniel mi ha chiesto l'amicizia su Instagram circa un anno e mezzo fa e da lì abbiamo cominciato a conversare, ho visto il suo profilo che mi è piaciuto molto, mi è stato molto interessante perché un ragazzino di 10 anni che postava tantissime foto, tantissimi video di tennis e ne ho visto anche qualcuno e il ragazzino mi sembrava interessante. Al che ho contattato il papà, abbiamo parlato per telefono, mi sono accordato con lui di farlo venire una settimana qui al Green Garden. Mi sono ovviamente confrontato con Simone Acquaro, che ha una visione molto simile alla mia, e Fabio Sapori e abbiamo optato per questa cosa. Siamo restati piacevolmente colpiti da come giocava questo ragazzino così piccolo e abbiamo deciso di creare una relazione, insomma l'abbiamo tesserato subito. Nell'arco di una stagione lui è venuto circa tre volte a spot, ogni volta con un lavoro specifico, abbiamo cambiato in pugnatura nel dritto, abbiamo fatto tante cosette, vedevamo un progresso molto rapido. A fine stagione ha vinto 5 tornei kinder, ha giocato un master da Nadal, Nell'Accademia di Nadal, qualificandosi arrivando ai quarti di finale. Questa è stata sicuramente una cosa positiva, con un anno di anticipo. Quest'anno, due settimane fa, anche qui ha giocato un campionato considerato così, un campionato europeo a Dubrovnik, arrivato in finale, e anche questa cosa è una piacevole sorpresa. Dalla stagione prossima ci siamo accordati perché lui faccia praticamente la stagione invernale, la preparazione qui, quindi ci trasferirà qui da noi, e questa cosa non fa altro che farci piacere insomma. Sarà un piacere averlo qui. Per tutti. Ok, adesso faccio due domande a Daniel e a Danton. La prima. What do you think about Green Garden? Coaches, the boys and the girls that you played with? I think this place is so good and the coaches are so cool and I think this place is the best place ever to play tennis. Thank you. The second question is about your future. What do you think? What are your goals? I think my future is maybe good. I will be practicing here to be the champion in the world. Great. Thank you. Grazie Alessandro, grazie Daniel, grazie Anton, è un piacere avervi qua.